In provincia di Napoli sono circa 2.300 le persone condannate con sentenza definitiva o sottoposte a misure di prevenzione definitive per reati legati alla camorra. Sono i loro patrimoni che la Guardia di Finanza si accinge ad esaminare grazie anche a un'applicazione informatica all'avanguardia di cui le fiamme gialle del comando provinciale dispongono da poche settimane. La strategia di attacco ai patrimoni criminali è stata illustrata dal comandante provinciale Riccardo Rapanotti nel corso dell'incontro con la stampa. La nuova applicazione consentirà di individuare attraverso il casellario giudiziario le persone condannate con sentenza definitiva o destinatari di misure di prevenzione definitive. Questi soggetti avranno l'obbligo di comunicare per dieci anni alla Guardia di Finanza le variazioni patrimoniali superiori a 10.000 euro, ma quasi nessuno o tempera. I militari posseggono ora uno strumento in più per analizzare quelle variazioni patrimoniali molto spesso illecite. Un'altra arma a disposizione del comando provinciale è il gruppo per le investigazioni sulla criminalità economico-finanziaria istituito di recente solo in tre città, oltre a Napoli, Roma e Milano.